Tanto un giornale francese ha citato Napoli come la capitale della cultura in Italia. Beh questo ci fa molto piacere perché devo dire conferma i dati statistici che abbiamo che Napoli negli ultimi anni è la città che maggiormente ha messo in campo un'offerta culturale di qualità e di quantità ripagata da presenze turistiche che nella storia di Napoli non ci sono mai state e quindi è la possibilità per tanti di conoscere la nostra città e veniamo apprezzati perché io ricevo mail, sto per strada e devo dire che si coglie il senso di comunità, di umanità, di riscoperta della bellezza e tutti vedono nella cultura e nella potenza della cultura e dell'umanità di questa città l'elemento caratterizzante della svolta di Napoli. E poi devo dire anche ormai non più con sorpresa ma come dato che per me è importante molti sottolineano anche che Napoli essendo appunto una grande capitale, una città che ha un forte pregiudizio viene avvertita come una città sicura. Questo lo dico perché è uno dei temi che maggiormente preoccupa, di cui parliamo ogni giorno, dei temi della nostra città. Quindi vuol dire che c'è un problema sicurezza in Europa, nel mondo, in Italia molto grande qui bisogna far fronte ma senza pensare che Napoli abbia delle caratteristiche particolari in negativo rispetto ad altre città.